e volevo presentare anche, allora qui abbiamo una bassista che non ho ancora presentato brava bambina, vai ciao ciao, lei è Laura, grande pianista ma anche grande bassista bene, direi che se siamo pronti, io ci sono, tu ci sei, perfetto la nostra interprete di How to Save a Life è Chiara Moretti che avete sentito suonare prima e adesso canta per voi step one, you say we need to talk key words, you say sit down, he is just a talk he smiles politely back at you, you stare politely run on through some solo window to your right, she goes left and you stay right between the lines of fear and blame, you begin to wonder why you can't and then when I go wrong, I lost the plan but what I lost is to give an answer and I'll stay in love with you all night but I know I'll stay in love so Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.